Tomasino! Vieni! Vedi che è venuto questo signore qua, non lo so, ha parlato di una macchina per la lavorazione delle olive. Salve signor Tomasino, mi presento. Sono l'ingegner di Lullo, le sono venuto a proporre l'acquisto di un nuovo macchinario per la lavorazione delle olive. Sì. E vabbè andiamo dentro a parlare. Sì. Io devo andare a dare galline. E va, e va. Quindi le dicevo, questa è una macchina straordinaria, perché? Perché questa macchina coglie direttamente lei le olive, le snocciola, le porta alla premitura, l'olio lo porta direttamente in delle bottiglie che tappa, pastorizza e mette un'etichetta e lei quindi può prendere direttamente le bottiglie e venderle. Scusa, fammi capire, le tette ce le ha? Le tette, cioè, come le tette? Le tette, le tette, questa macchina ha le tette. No, che c'entrano le tette? No, non ce le ha. Non ce le ha? E allora non mi interessa. Faccio venirle ragazze dell'anno scorso. È molto divertente. Lo raccoglio. Se non c'è niente a fare, vien pure tu. Non fa niente, l'amore. Non fa niente, dai, dai. Mi diverti più a coxì.